Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Frizioni tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle a causa della Royal Family. Sembra infatti che il duca senta molto la mancanza del fratello William e di Re Carlo, ma che la consorte non sia troppo d'accordo nel tentare una riconciliazione. Stando a quanto riferito al The Times da una fonte vicina ad Harry e Meghan Markle, il principe avvertirebbe molto la mancanza della sua famiglia. Sembra che il duca stia pensando ad un modo per riallacciare i rapporti con il fratello William, la cognata Kate Middleton e il padre Re Carlo. A rompere le uova nel paniere però sarebbe l'ex attrice, contraria ad un ritorno al passato. La fonte, parlando di Harry, ha assicurato Gli manca molto Londra, la sua famiglia e trascorre molto tempo a pensare al passato. Un altro insider ascoltato dal magazzino Kay sostiene che Meghan Markle stia facendo il possibile per far dimenticare il passato ad Harry. La duchessa di Sussex vorrebbe che Harry dimentichi il passato per andare avanti. La fonte ha dichiarato «Penso che stia facendo la cosa giusta. Hanno preso la loro decisione tempo fa lasciando la famiglia reale e rimuginare sulle ingiustizie vissute in passato o rivivere vecchi litigi è uno spreco di energie e credo che Meghan ne sia consapevole». Harry e consorte potrebbero tornare a Londra, al momento sembra unificio.